E e e e e e i liceani lo danno su cali 5 e ci sono le persone e la gente lo guarda con gli occhi perchè lo vuole vedere Poi c'è il signore con gli occhiali in mano E' tipo con la maglietta già là dietro Con la mano alzata Questo signore che corre E tutti lo guardano lo guardano La gente cosa fa? Ma cosa fa? La gente lo guarda Perché lo deve vedere E anche questo sta correndo E quello dietro si vede che ha gli occhiali Ma non lo sappiamo Perché non abbiamo visto l'episodio E allora lui ci fa vedere un indizio E capiamo che quella puntata non l'abbiamo vista Perché è in un'altra puntata E lui si arrabbia Sta tramando nel buio Perché i liceari vogliono conquistare il mondo E è arrivato il signore vicino al muro E adesso arriva quello Con la barba, con la schiuma Con il tappo verde che c'è dietro La testa girata E arriva la polizia La polizia La polizia Con Pietro e Camilla Questa è la sigla dei liceari